Un angolo bello di Sarno, un angolo creato da un signore sarnese che ha fatto tanti sacrifici e adesso è collaborato finalmente da un'associazione della città, Terra Vecchia, che sta creando, a parte questi portafiori, ma delle banchine che sono simpatiche e con un costo economico. Di che cosa non fai? Queste delle balle di paglia costano pochissime, sono rivestite in plastica, c'è un ragazzo dell'associazione che lavora proprio in queste cuciture di plastica e di altro. E quindi la base di lei è a basso costo, definiamo un'arte povera, visto che siamo in un clima povero, in uno Stato che sperando poi di essere ricchi. E allora queste iniziative di giovani che emergono e si presentano con dati di fatto sul territorio è qualcosa di positivo ma non di poco. E in questo caso se noi ce ne possiamo uscire in questa nazione con il volontariato, il segnale mio e di questi giovani è dare l'input del volontariato. Il volontariato vuol dire fare per sé e fare per altri, fare con poco e fare di più. I ragazzi che condividono, i ragazzi di Terra Vecchia che condividono la mia stessa idea, sono venuti in supporto. L'acqua cristallina che fa da prima donna, c'è, ci possiamo aggiungere quel poco che proprio attraverso... Aggiungiamo le trote, con la volontà e la grazia di amici, di chi è disponibile. Lei si sta divertendo? Sì, 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 molto, molto. Sta dando una mano? Lo faccio con tutto il cuore. Però voi qualche volta dovete vedere la mattina, la mattina presto, per vedere cosa lasciano i nostri giovani. E va bene, è normale, lasciamo bene. Spavento, spavento. Ma vengono a pulire poi dopo? Sì, sì, sì. Questo è necessario. Lei andando si diverte a pitturare e a trascorre un po' di tempo. Io sono venuto sei anni fa ed era abbandonato. Poi dopo ho sentito Daniello che lo aveva sistemato, gli ho fatto i complimenti perché è veramente una testimonianza dove l'impegno di un cittadino può fare molto di più. La cosa significativa è proprio il senso civico di tutte queste azioni che poi devono far riflettere anche il cittadino.